Quando nel 2004 abbiamo iniziato ad amministrare la nostra città, abbiamo trovato il Granatello, il luogo della nostra infanzia, il luogo del mare, il porto, il luogo dei ricordi. Era il luogo del degrado, il luogo dell'abbandono. Che cosa abbiamo fatto per recuperarlo? Riqualificazione, utilizzo di fondi europei, possibilità di creare meccanismi per investimenti di privati, voglia di recuperare il mare, di restituire il porto alla città, la pesca, il mare, il turismo, la movida, gli investimenti, i giovani, la voglia di vivere la città. Questo è diventato il Granatello, con la riqualificazione e l'utilizzo dei fondi europei, la voglia di far investire nel Granatello la nostra vita, la vita dei nostri giovani, il nostro tempo libero, la nostra passione per il mare, la voglia di stare insieme, di essere comunità. Lo abbiamo fatto insieme, vogliamo continuarlo a farlo. Ma è più un Granatello chiuso, ma è più il Granatello dell'emarginazione, sempre più il Granatello della vita, il Granatello della movida, il Granatello delle regole, della sicurezza, della gente per bene, insieme agli amici, alle amiche, insieme ai giovani a socializzare. Questo è il luogo che abbiamo restituito alla città, per continuare a crescere insieme, per avere un Granatello che continua a fare lo sviluppo del nostro territorio, per portare il baricentro della città verso il mare, verso i luoghi della movida, della voglia di stare insieme.